Rifiuti di ogni genere, bottiglie di vetro e plastica, confezioni di medicinali, pezzi di tubi in gomme e persino qualche scarto di cantiere ricoprono la collinetta tra il Belvedere in fondo a Viale Margherita, recentemente ribattezzata Piazza Vittime di Nassiria, e lo spiazzo su cui si affaccia la sede del Dipartimento di Salute Mentale. Una situazione che permane da diverso tempo senza che l'aria sia stata ripulita dai rifiuti e forse occorrerebbe in qualche angolo anche un lavoro di scerbatura, dato che con il caldo il rischio di incendi aumenta. Tra l'altro è impossibile non notare le immancabili cicche di sigarette. Se da un lato è vero che occorrerebbe maggiore attenzione da chi ha la responsabilità di mantenere puliti i luoghi della città, non si possono tralasciare i comportamenti incivili da parte di chi abbandona i rifiuti negli spazi verdi, perché è proprio da questi gesti che si evince la mancanza di amore e rispetto verso la propria città.